le fasi del conflitto sono tre la prima è la cosiddetta guerra archidamica che va dal 431 al 425 avanti cristo qual è la strategia di pericle per mettere in difficoltà gli spartani innanzitutto una serie di incursioni per mare nel peloponneso e poi l'evacuazione delle campagne e il trasferimento della popolazione all'interno delle mura di atene lo scopo è evitare lo scontro diretto con gli spartani e costringerli all'assedio della città una tattica in cui non erano preparati quali sono le conseguenze gli esiti di tale strategia la guerra ha indebolito le due parti in causa senza che nessuna ottenesse vantaggi significativi nel 429 avanti cristo lo scoppio dell'epidemia di peste mette in seria difficoltà la strategia di pericle gli spartani sconfitti a pilo propongono di sospendere il conflitto in cambio della restituzione dei 120 opliti tenuti prigionieri dagli atenesi si giunge così alla pace di nicia dal nome dell'aristocratico atenese che l'aveva promossa nel 421 avanti cristo la seconda fase è quella della spedizione in sicilia dal 415 al 413 avanti cristo cosa succede dopo la pace di nicia ambe due le parti vengono meno agli accordi stipulati in particolare atene con la politica spregiudicata di alcibiade che opera su due fronti per riaccendere la miccia del conflitto innanzitutto potenzia la flotta in vista di una spedizione in sicilia in secondo luogo stringe alleanze con alcune città del peloponneso in funzione antispartana quali sono le conseguenze della strategia di alcibiade sparta viola la tregua ristabilendo la propria influenza sul peloponneso e atene a sua volta rompe la tregua con due iniziative offensive la prima è la spedizione in sicilia nel 415 avanti cristo la seconda è la durissima rappresaglia contro l'isola di melo la quale si era rifiutata di aderire alla lega degli oattica e di prendere parte al conflitto questa fase della guerra si conclude con la disfatta totale di atene rimasti privi della guida di alcibiade vittima di un complotto nel 413 avanti cristo gli atenesi subiscono una durissima sconfitta da parte dei siracusani forti dell'appoggio militare di sparta e della lega peloponesiaca la terza fase del conflitto è la cosiddetta guerra deceleica dal nome della fortezza di decelea occupata dagli spartani dopo la disfatta in sicilia atene è fortemente indebolita viene meno il sostegno militare economico della lega degli oattica la polis subisce l'assedio di sparta che approfitta della situazione di grave emergenza e crisi in che modo sparta approfitta di tale situazione in che modo sparta tentò di approfittare di tale situazione innanzitutto cinse d'assedio la polis di decelea che si trovava a pochi chilometri di distanza da atene stipola poi un patto con la persia per ottenere navi in cambio del controllo sulle poleis greche in asia minore sul piano politico impone nel 411 ad atene un regime oligarchico il cosiddetto consiglio dei 400 il conflitto riprende nel 410 con la destituzione del consiglio dei 400 e il ripristino della democrazia la flotta atenese viene distrutta a egospotami nel 405 avanti cristo prima ancora dell'inizio della battaglia infine nel 404 dopo un lungo assedio da parte dell'esercito spartano atene è costretta alla resa well that's all folks that's my line step aside babe what a star do that that's all folks you